In questo 2023, ormai agli sgoccioli, anche il comune di Sondrio ha deciso di omaggiare Alessandro Manzoni nell'anno del centocinquantesimo dalla morte. Come? Intitolando al padre dei promessi sposi, figura di assoluto rilievo nella letteratura e nella storia italiana, il settimo ponte che collega via Tonale e la rotonda di via Ventina, finora chiamato così perché è sprovvisto di un proprio nome dal 2012, anno della sua inaugurazione. La delibera di giunta è stata trasmessa alla prefettura di Sondrio per gli addempimenti di competenza in materia di toponomastica. E non è l'unica, perché sempre in fatto di ponti sondriesi e toponomastica, in un'altra delibera la giunta del sindaco Scaramellini ha deciso in questo caso non di intitolare, ma di confermare a Giacomo Matteotti, il leader democratico ucciso da bande fasciste nel giugno 1924, il ponte che collega le due sponde del Mallero tra Piazza Garibaldi e Via De Simoni. Un ponte, questo, da molti sì conosciuto come Matteotti, ma per il quale, come ha ben mostrato un bellissimo lavoro condotto lo scorso anno in occasione del centenario della marcia fascista su Roma, dalle allora classi terze della media Torelli, non è stato possibile rinvenire un documento ufficiale al riguardo. L'intitolazione del ponte risulta nelle vecchie cartoline del dopoguerra, ma in nessun cartello di toponomastica. Scopo della ricerca dei ragazzi era proprio quello di sottoporre la questione al comune di Sondrio. Nel lavoro dei ragazzi si ripercorre la storia del ponte, dal primo il legno del 1859 sostituito da uno in ferro nel 1884, che tuttavia nel 1927 fu travolto da una terribile alluvione. Il genio militare provvide ad edificare un ponte temporaneo chiamato Herbert, che fu smontato tre anni dopo e sostituito da un quarto, quello attuale, in cemento armato, inaugurato nell'ottobre 1929, il 27, settimo anniversario della marcia su Roma, e intitolato poco dopo a Michele Bianchi, allora ministro dei lavori pubblici. Una curiosità di questa intitolazione rimane la scritta Michele Bianchi, appunto incisa in una spalla del ponte, quella sulla sponda sinistra, più prossima a Palazzo Martinengo. Nei primissimi anni del secondo dopoguerra la struttura fu dedicata a Giacomo Matteotti. Già nel febbraio del 1948 il ponte aveva preso questo nome e come tale veniva nominato anche sui giornali, ma l'atto formale della dedicazione, come detto, non si trova. Pazienza. Grazie agli studenti e all'attenzione del comune, il ponte centrale del capoluogo è ufficialmente confermato come intitolato a Giacomo Matteotti. Figura esemplare, si legge nella delibera di giunta, di integrità politica.